L'Atalanta batte l'Udinese per 2-0 e aggancia così il quarto posto in attesa della Fiorentina che gioca stasera. Una partita che certifica ancora una volta il buon momento dell'Atalanta. Basti pensare che cinque giornate fa l'Atalanta viaggiava fra il sesto e l'ottavo posto a sei punti dal Bologna e oggi si trova al quarto posto a più tre dalla squadra di Tiago Motta. Una partita che ha mostrato ancora una volta tutti i punti di forza e la crescita della squadra in una vittoria che non è banale perché nonostante meno o male l'avversario fosse assolutamente battibile era una di quelle partite dove se la prendi storta rischi davvero di fare un patatrack. Come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale poi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Allora fermo restando come ho già detto che la partita non era proibitiva ma andava giocata con la dovuta serietà quello che mi ha colpito ieri è vedere una squadra ancora una volta felice, contenta, con la voglia di giocare, con la voglia di sperimentare con la voglia di dimostrare qualcosa. Una fame che l'Atalanta all'inizio della stagione non ha avuto un'aggressività che non ha avuto e che adesso viene fuori in tutto il suo splendore. Una squadra che ha tanta qualità da poter spendere, che ha tanta voglia e che diventa veramente un osso duro per tutti gli avversari. Di fatto la partita non è mai stata in bilico, l'Atalanta l'ha messa in cassaforte nel primo tempo. Nel secondo se vogliamo un attimino essere bacchettoni si è un po' seduta, però vuoi il 2-0, vuoi il fatto che l'Udinese comunque non sembrava questa grande minaccia, alla fine è anche comprensibile. Per quanto riguarda le prestazioni, e qua c'è da dire molto, io parto dalla cosa più ovvia, da quei due là davanti, De Ketlar e Miranciuk. De Ketlar che sta crescendo, l'abbiamo detto in tutte le salse, ma oggi è un giocatore fondamentale. Tutti i palloni passano da lui, tutte le buone occasioni passano da lui, tutte le idee di un certo tipo passano da lui. È un giocatore che lotta, che non si ferma mai, che non si lascia scoraggiare da un errore, che se si sente di provare qualcosa di complicato lo prova, è veramente un valore aggiunto. Io continuo a credere che non abbia ancora raggiunto il suo massimo potenziale, perché io sono convinto che il giocatore abbia ancora più fantasia e ancora più genialità da mettere in campo, ma già oggi è un grandissimo vedere e l'intervento di recupero che ha fatto l'Atalanta su questo giocatore è qualcosa di incredibile. Allo stesso modo dobbiamo parlare di Miranciuk, un giocatore che evidentemente è dijevoluto, non lo so cosa gli è successo, ma da un mese e mezzo a questa parte è un'altra persona. Ieri ha fatto un recupero da terzino. Corre, si lancia verso la porta, non ha paura di fare giocate difficili e tendenzialmente gli riescono anche. Vede la porta, fa un gran gol che tra l'altro, per lasciatemelo dire, è un po' anche l'emblema di questa Atalanta. Ruggeri che dà un pallone calibrato per De Ketlar, che bravissimo si scansa, salta l'uomo, la mette in mezzo e arriva Miranciuk d'interno, che è una cosa molto complicata per insaccare. Cioè, è una squadra che gira e con due attaccanti del genere, che danno tanta tanta qualità e che sono ugualmente temibili in questo momento, difendere contro l'Atalanta è un grande grande problema. Comunque hanno giocato tanti bene. Una menzione va fatta ancora per Holm, che veramente sta crescendo tantissimo. Oggi, ieri in fase di spinta, ha lavorato benissimo. E anche in fase di difesa, devo dire che non mi è dispiaciuto. Tra l'altro, quella rimessa lì lunga, qualcosa di molto, molto, molto interessante. E una menzione, io la faccio anche a carne secca, ieri è stato chiamato in causa due volte e due volte comunque ha parato molto bene. Ripeto, non mi interessa la diatriba con Musso. Oggi l'Atalanta ha fatto la sua scelta. Io giudico la scelta che ha fatto e il portiere comunque si sta comportando molto, molto, molto bene. Ci sono anche delle sbavature. Ederson, per esempio, ha perso un po' di palloni, però ci può anche stare. E Scamacca, che ha fatto comunque un gran gol, è un'altra partita di quelle in cui deve lottare non solo col ruolo, ma anche con se stesso per ingranare. Io continuo a credere che sul giocatore bisogna insistere. Perché ha un potenziale tale che se lo sblocchi, ce n'è più per nessuno. Si vedono dei miglioramenti, perché il ragazzo si sbatte parecchio, corre, cerca di pulirsi da alcune giocate molto, molto complicate e inefficaci, cerca di essere molto più pratico. E comunque è abbastanza palese che lui ha capito che cosa deve fare. Sta lavorando per arrivarci, ci vogliono i suoi tempi. Quindi spero che anche il gol gli abbia dato una mano, perché la partita comunque l'ha fatta di sacrificio. Poi ci sono diverse sbavature dettate dal fatto che non è ancora totalmente in confidenza con il ruolo che deve interpretare, però io vedo comunque dei miglioramenti che mi fanno ben sperare. Ora, non ci resta che andare avanti testa bassa, partita dopo partita. Abbiamo dimostrato nelle partite insidiose comunque di poterne venire fuori con solidità, ora è il tempo anche di mostrarlo nelle partite di un certo tipo, nelle partite un po' più importanti, perché sebbene sono le partite meno insidiose quelle che poi ti regalano i punti più importanti, bisogna adesso anche affrontare il tema degli scontri al vertice con la giusta testa. In questo momento l'Atalanta può fare male a tutti, tenendo conto poi che mancano anche l'Ukman e il Bilal Touré, quindi per me davvero dobbiamo giocarcela, ma non dobbiamo fare l'errore di affrontare le cose con facilonneria o superficialità, essendo troppo ottimiste rispetto a come ci stiamo comportando. Testa bassa a lavorare che i risultati arrivano. Io come al solito vi ringrazio, tutti i riferimenti sono in descrizione, vi ricordo, anzi vi annuncio che martedì saremo in live, e se riusciamo lo saremo anche su Atalantini, per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!